Campagna nazionale Sfratti Zero, Pescara ha la maglia nera in Italia per numero di sfratti. Oggi c'è questa manifestazione qui in Piazza Sacro Cuore, voi siete proprio qui per testimoniare questa cosa. Tante case vuote e tanti sfratti. Esattamente, oggi è il 10 ottobre, giornata Sfratti Zero dal 2012 e questa giornata è stata indetta dall'Alleanza Internazionale e gli Abitanti. A Pescara abbiamo un boom di sfratti, una situazione drammatica. I dati del Ministero dell'Interno che abbiamo diffuso ci parlano nella sola Pescara di un aumento in percentuale delle sentenze di sfratti di più 188% e addirittura di richieste di esecuzione a seguito di queste sentenze di più 388%. Quindi ci parlano di un trend che pure in tutto Abruzzo parla di un aumento di circa l'80%. A questo punto noi chiediamo che la politica inserisca seriamente nella propria agenda la questione casa e il diritto dell'abitare. Ci sono anche case e abitazioni che non possono essere utilizzate, sono case che presentano delle problematiche. Esattamente, noi abbiamo calcolato che c'è circa il 7% di abitazioni vuote dell'Ater che però non vengono assegnate perché non sono agibili. Una delle nostre proposte è quella di favorire le cooperative di autorecupero di assegnatari, cioè di quelli che hanno requisito ad avere una casa e poi, una volta rimesse in condizioni di essere agibili, poter consentirli a loro di scalcolare nei futuri cannoni di locazione queste somme fatte a seguito delle migliorie su questi immobili, oltre che proponiamo un piano decennale attraverso il riutilizzo sociale di tutto il demanio civile e militare non utilizzato che secondo i nostri calcoli consentirebbe un milione di alloggi in dieci anni oltre ad usare la leva fiscale, perché in questo paese ci sono tanti immobili vuoti, volutamente, che rimessi sul mercato potrebbero consentire di calmirare i prezzi di locazione, i cannoni di locazione.